ciao a tutti amici oggi volevo parlarvi del motivo per cui ogni tanto purtroppo il voto automatico facilecca dunque è una cosa che non dipende dalla comunità italiana quindi non sparate al vostro assistente che vi cercherà di aiutare nell'asilo di discord non è colpa sua e peraltro probabilmente anche lui non riceverà il voto automatico per cui non sarà molto felice nel momento in cui lui posta anche lui non riceve questo voto automatico per cui è arrabbiato anche lui in un certo senso però sono cose che succedono bisogna anche capire che i sistemi non sempre sono perfetti ecco neanche le persone per cui portate pazienza se vi parlo e ho sempre i miei appunti ogni tanto copio come alle medie no dunque streaming può fare cilecca ma come tutti come tutti i sistemi di voto automatico diciamo è un problema che hanno in altre comunità anche straniera per cui portate pazienza non non dipende dalla comunità italiana e non è neanche competenza della comunità italiana a risolvere questo problema dovranno risolverselo dentro streaming niente questo era un video veramente pillola è tutto risponde a una domanda molto richiesta e cercherò di migliorare la qualità di questo video arricchendolo con immagini portate pazienza se non sarà perfetto un bacione e arrivederci alla prossima ciao ciao